ciao a tutti ragazzi come andiamo bentornati sul canale times gadget e bentornati in questa nuova video recensione che oggi vede come protagonisti una serie di accessori della orbit key davvero molto interessanti utili nell'utilizzo pratico di tutti i giorni ma soprattutto molto eleganti e ben rifiniti hanno materiali di ottima qualità e mi sono piaciuto tantissimo in queste ultime settimane che ormai li sto utilizzando infatti sono diverse settimane che sto utilizzando un po tutti questi loro accessori e me ne sono innamorato ecco perché non vedevo l'ora di portarvi questa recensione partiamo subito con i primi due prodotti che sono quelli più piccoli e abbiamo due porta chiavi due porta chiavi di cui il primo sicuramente molti di voi già lo conosceranno e si parla del key organizer questa qui è la versione black edition che è un'edizione limitata con il multi tool che adesso vi farò vedere e poi abbiamo invece da quest'altra parte il nuovo clip 2 la versione 2 che è questo qui piccolino che adesso anche questo qui lo mettiamo qui da una parte adesso lo faccio vedere perché iniziamo subito con il primo che è questo black edition key organizer un porta chiavi davvero interessante ragazzi non solo per i materiali per come è fatto con un design estremamente elegante che a me è piaciuto tantissimo questa qui è la all black edition è un'edizione limitata infatti costa un pochino di più abbiamo tutta pelle martellata chiaramente non pelle vera pelle finta ma davvero di ottima qualità è estremamente morbida e anche molto molto bella a tatto tutta impunturata qui dai lati non si può scegliere una diversa corazione di questo limited edition ma avete poi tante diverse corazioni invece dell'altra edizioni che poi non sono limited edition e hanno anche un prezzo leggermente più contenuto abbiamo qui tutto l'anellino tutto nero su nero per andare ad attaccare poi faccio vedere altre chiavi esterne questo invece all'interno abbiamo il tool kit il multi tool scusatemi mi confondo sempre con questi nomi che in pratica è un accessorio un po tutto fare fa da apri bottiglie fa anche da non vi dico cortellino ma è comodo per aprire pacchi abbiamo anche un piccolo centimetro qui da una parte e abbiamo anche un alimenta perfino nel mezzo molto bello perché abbiamo il logo orbit key e poi nient'altro molto pulito tutto nero su nero una cosa che mi ha particolarmente stupito di questi e mi ha particolarmente diciamo catturato rispetto altri portachiavi che voi potete trovare in circolazione e che anche io poi ho utilizzato fino a prima di questo qui infatti ho utilizzato il liquid carry ho utilizzato anche i case smart non so quanti di voi lo conosceranno comunque quelli lì erano dei portachiavi simili a questo ma avevano non una vite solo ma avevano due vite sia a destra che a sinistra e chiaramente anche quelli potevano poi aprire le chiavi a ventaglio sia a destra che a sinistra la particolare la differenza di questo perché mi piace di più in ritro di tutti i giorni perché su quei modelli vecchi dovevamo sempre andare a centrare sia a destra che a sinistra le chiavi le dovevamo tenere lì in pila dovevamo stare attenti a tenerle con le dita dovevamo andare a chiudere pian piano le viti di entrambi i lati erano un pochino più macchinosi qui invece l'azienda ha fatto un grande passo avanti non solo per il design ma anche per la semplicità di utilizzo e soprattutto per la semplicità di come si vanno a mettere all'interno le chiavi in pratica noi abbiamo questa vite che dobbiamo andare a svitare e questo qui vedete c'è lo spacco qui perché lo possiamo anche andare a avvitare con una semplice monetina che poi vi farò vedere perché la devo utilizzare in pratica noi andiamo ad aprire su questo kit in pratica con questo orbit key organizer esce anche una piastrina che sono anzi due piastrine che sono fatte così ve lo faccio vedere anzi c'è un'altra qui esce questa piccolo cindrino è un piccolo dischetto vedete come è fatto non è piatto è leggermente curvato adesso vi faccio anche vedere e spiegare il motivo per cui è curvato e per cui è utilissimo in pratica la particolarità come dicevo prima è che su questo orbit key a differenza degli altri è molto semplice perché noi una volta aperto non dobbiamo fare altro che andare a inserire le chiavi nella maniera più semplice possibile e non abbiamo ecco il primo anellino quello che vi ho fatto vedere prima dato che ne avete due il primo lasciatelo da questa parte perché vi permette di mantenere le chiavi sempre ben attaccate l'una con l'altra ma soprattutto di non farle strusciare da questa parte e ve le mantiene leggermente scostate vi dico che è molto molto utile utilizzarle in questo modo poi possiamo andare a mettere le chiavi quindi noi le possiamo andare a mettere in qualsiasi ordine come volete possiamo anche non so per dividerle a un certo punto le chiavi possiamo anche organizzarle in questa maniera e a metà ci mettiamo il nostro toolkit multitool e poi andiamo semplicemente a chiudere in questa maniera e andiamo a fissare il tutto con questa vite potete avvitare a mano tranquillamente perché comunque la vite va giù molto facilmente dopodiché per stringere un altro po potete anche usare un cacciavite o anche una semplice monetina che avete con voi o un qualsiasi altra cosa il gioco è fatto e avete il vostro porta chiavi con le vostre chiave all'interno che possono essere aperte a ventaglio la particolare di questo è che come vi dicevo è molto semplice da utilizzare è molto semplice come avete visto anche da inserire le chiavi è una cosa che mi è piaciuta rispetto ad altri e diciamo che organizer comunque porta chiavi che ho avuto è che questo qui con una mano possiamo andare subito semplicemente ad aprire le nostre chiavi le possiamo andare a tirare fuori e a girare poi se volete se è troppo stretto allentato un pochino perché tanto lui con il tempo delle volte si va un pochino allentare quindi state attenti quando mettete tante chiavi delle volte la vite a forza di utilizzarla a forza di girare si può un pochino allentare ma lo potete poi anche stringere vedete anche a mano però devo dire che è molto semplice molto pratico è utile qui avete sempre poi questo multi tool che vi potrebbe essere sempre molto comodo e all'evenienza per qualsiasi altra cosa quindi un porta chiavi della orbit chi ragazzi che mi è piaciuto particolarmente per la sua semplicità per la sua eleganza per i suoi materiali anche per le sue finiture ma anche per le sue colorazioni invece quest'altro anello qui serve se volete attaccare una chiave ulteriore esterna anche una chiave della macchina comprate un anello vi consiglio anche quello lì l'anello della orbit chi che è davvero eccellente per come è fatto per come è stato pensato e studiato e poter attaccare anche le chiavi della macchina l'unica cosa che a me è rimasta un po fuori in questi giorni anzi fuori diciamo che l'ho poi utilizzato perché sono uscita in serilla sono queste chiavi qui se anche voi purtroppo come a me ancora avete queste chiavi qui dei portoni ecco queste qui sono uscita in serilla ma la dovete intervallare se avete come a me questo tipo di chiave dove questa parte è più sottile invece questa qui è più cicciotta per far sì che si vada a chiudere a girare bene poi quando l'abbiamo all'interno ci dovete mettere quest'altro elemento quest'altro dischetto tra l'ultima chiave tra la penultima e l'ultima chiave che poi è questa qui questa quella dovete mettere per ultimo perché questo piccolo cilindrino essendo fatto in questa maniera va un po a ribilanciare e allineare lo spessore la differenza di spessore che c'è fra questa parte e quest'altra e alla fine si può andare a chiudere è chiaro che la chiave essendo così lunga non va a rientrare dentro ma ve l'ho fatta vedere anche su di strami in pratica rimane ecco così fuori comunque diciamo che è un po fastidioso in alcuni casi però nulla di che ragazzi riesce ad entrare anche questa chiave non capisco perché nessuna azienda che produce portachiavi è riuscita ancora a pensare a un portachiavi leggermente più lungo per far entrare anche questa specialmente queste qui della orbit key della orbit key potevano fare veramente uno sforzo minimo per allungare leggermente ma forse di mezzo centimetro questa parte qui in pelle e sarebbe entrata anche questa qui e sarebbe riuscita a girare anche verso l'interno anche questa chiave senza tanti problemi comunque un accessorio che io vi consiglio assolutamente di utilizzare e ve lo consiglio spassionatamente perché mi sono trovato benissimo in questi giorni di utilizzo il prezzo di questo key organizer è di 39 euro per tutte le versioni che trovate sul sito vi lascio i link qui sotto al sito internet allo store ufficiale ma anche se volete ad amazon per i modelli che ci sono disponibili invece di questa versione all black limited edition il prezzo sale a 51 euro come secondo invece versione l'ho fatto già vedere prima il clip 2 beh qui abbiamo un portachiavi molto differente da quell'altro perché lì abbiamo il concetto di riuscire a raggruppare le chiavi e a tirare fuori al portafoglio quindi non vanno a graffiare non solo le tasche non vanno a rigare soprattutto poi sentite cioè non si sente nulla perché non c'è il mazzo di chiavi che fa rumore e questo qui l'ho apprezzato tanto anche su questo modello mentre su quest'altro è un pochino differente perché qui possiamo avere il nostro classico mazzo di chiavi adesso vi faccio vedere anche un po come funziona però questo questo clip della versione 2 ha una particolarità interessantissima perché abbiamo un grande moschettone da questa parte molto bello perché questa qui la versione all black è tutta molto rifinito con il loghetto orbit key e tutto il moschettone tutto in nero opaco quindi mi piace tantissimo ma questa qui ha la particolarità perché quando noi andiamo attaccare per esempio il moschettone a uno zaino a una tracolla noi per staccare le chiavi ma lo possiamo anche attaccare per esempio a un passante dei pantaloni basta fare così e il gioco è fatto le possiamo andare a staccare quindi noi qui abbiamo le chiavi quando dobbiamo andare ad attaccare basta accostarle lui magneticamente si va a riprendere il portachiavi un sistema geniale ragazzi è un sistema che io ho adorato in questi giorni perché questo qui non l'ho utilizzato per le chiavi di casa ma l'ho utilizzato bensì per le chiavi per il lucchetto della bici per l'altra pelato portone giù nel cortile anche per il cancello che utilizzo solamente quando esco con la bici o con la macchina ebbene l'ho ho adorato questo sistema perché è facilissimo lo potete attaccare lo zaino tac con un attimo andate a staccare le chiavi e poi andate a riattaccare il sistema poi molto forte ragazzi cioè a meno che voi non tirate da qui lui da qua guardate cioè non si muove e questo qui è stata la genialata è la cosa che mi ha sorpreso e poi è semplicissimo per andare a mettere le chiavi perché in pratica voi avete questo anello che non dovete fare altro che tirarlo fuori in questa maniera e l'anello non ha una sua chiusura ma bensì vedete qui aperta quindi voi semplicemente andare a mettere le chiavi così all'interno qualsiasi tipo di chiave perché comunque lo spessore questo qui è minimale quindi ho provato diversi chiavi anche queste qui che hanno il rinforzo in palastica come questa qui riescono ad entrare semplicemente guardate voi non appena andate ad appoggiare il gioco è fatto si vanno ad attaccare chiaramente qui c'è il rumore c'è anche il rischio che se lo mettete in tasca anche se questo qui non è fatto per mettere in tasca ma è fatto per mettere attaccato all'esterno all'interno di una tracolla di uno zaino come dicevo prima anche dei pantaloni comunque all'interno però dei pantaloni se mettete solamente questo c'è il rischio che come al saluto questi tipi di chiavi possono andare a rigare o a rovinare o anche a bucare come mi è successo anche a me non solo le tasche dei pantaloni ma anche le tasche di lizani o delle tracolle ecco perché ho adorato questi tipi di porta chiavi che vanno a compattare le chiavi e le vanno diciamo un po a compattare e raggruppare tutte qui all'interno e non abbiamo poi neanche questo fastidioso rumore però tra tanti porta chiavi se volete questo genere di porta chiavi fra quelli che si possono andare a staccare velocemente questo ragazzi fare modelli che ho provato è il più bello e il migliore e anche quello più rifinito a livello proprio di materiali perché abbiamo l'acciaio qui che è tutto satinato davvero bellissimo e poi anche questo riprende in nero opaco lo stesso colore del moschettone questo qui questo clip 2 ha un prezzo di 42 euro e lo possono trovare solamente invece in due colorazioni questo qui non c'è un'edizione limitata quindi non abbiamo una differenza di prezzo come invece terzo accessorio di questo lotto della orbit key andiamo a vedere un accessorio molto più grande rispetto al porta chiavi e si tratta di un organizer si tratta del nest o del nido di come l'hanno chiamato anche sul sito italiano comunque si tratta di un organizer che vi può essere utile non solo in viaggio ma in particolar modo sul vostro tavolo di lavoro quindi sulla vostra scrivania o anche sul vostro comodino anche all'ingresso di casa adesso vi spiegherò anche il motivo per cui vi dico all'ingresso perché si tratta di un accessorio multifunzione se così vogliamo dire davvero interessantissimo ma anche fatto molto molto bene e molto elegante abbiamo due diverse colorazioni di questo nest ce l'abbiamo in questa colorazione che va ad alternare il grigio fra un grigio scuro grigio chiaro e grigio anche in questa texture in tessuto nella parte inferiore davvero molto bella abbiamo il loghetto della orbit key sia qui sull'attacco ma anche qui sulla base superiore e poi ce l'abbiamo invece nella seconda colorazione che è tutta nera da questa parte come avete visto sicuramente abbiamo invece una porta usb c perché adesso vi farò vedere come funziona e a cosa serve ma all'interno quando andiamo ad aprire con elastico guardate qui cosa andiamo a trovare un sistema di organizzazione organizer davvero interessantissimo molto pratico per tanti diversi utilizzi perché guardate questo in pratica si può staccare perché lui ha la base hanno pensato di bene di fare questa fibietta qui in metallo fatta molto bene anche guardate i colori come vanno a riprendere la fibbia interna con quella esterna e devo dire sono particolari che ho notato e faccio caso per questi tipi di prodotti ma hanno creato anche da questa parte vedete questo tipo d'attacco così che se noi vogliamo lo possiamo andare ad attaccare in questa maniera e se volete lo potete lasciare aperto così ma se volete altrimenti lo potete anche staccare e quindi creare due basi d'appoggio la cosa interessante è che all'interno abbiamo questi tipi di divisori perché lui è chiaramente un organizer anche da viaggio ed è comodissimo perché abbiamo dei divisori che possiamo spostare tramite questo velcro un velcro che devo dire è geniale perché noi in base agli accessori che vogliamo mettere ci andiamo a costruire il nostro organizer all'interno e la cosa che mi è piaciuta è che possiamo mettere qualsiasi cosa ragazzi in questi giorni l'ho utilizzato per esempio con l'SSD per portare l'SSD in questa maniera poi possiamo anche andare a portare il penniletto per esempio o una penna che serve per la parte fotografica per pulire le lenti ma possiamo anche andare a portare poi per esempio qui in mezzo altre penne io utilizzo spesso la sandisk anche questa qui della Satechi per leggere le schede di memoria esterna ma possiamo anche mettere per esempio le cuffiette e poi lo possiamo andare a dividere in questo modo abbiamo un'altra divisione da questa parte così in modo che andiamo a incastrare la powerbank e di qui possiamo anche andare a mettere la powerbank ma altrimenti possiamo perfino andare a incastrare così l'SSD e qui per esempio possiamo metterci un cavo di ricarica guardate qui come si può andare a organizzare come meglio volete o come meglio credete per esempio possiamo anche portarci come svuota tasche o anche per esempio in viaggio delle chiavi non sappiamo mai dove mettere le chiavi di casa ecco lo possiamo mettere qui all'interno che sappiamo che è un posto sicuro mentre da quest'altra parte ha un'organizzazione per piccole tasche dove poter mettere qui la tasca in rete ed è molto comoda perché è leggermente elastica e quindi possiamo andare a metterci per esempio io per esempio delle volte metto l'altra porta schede SD ma anche gli spellini li metto così qui abbiamo il porta invece SD card porta biliettini qui possiamo anche mettere un porta documenti o anche qualche carta di credito qualche carta di pagamento se volete mettere in viaggio una carta sicura all'interno una seconda carta questo qui risulta molto comodo e una volta fatto lo possiamo andare a chiudere e abbiamo con noi sempre tutto il necessario chiaramente che non si può andare a muovere perché è tutto bloccato e devo dire ragazzi guardate l'ho anche agitato ma le cose rimangono così come stanno se chiaramente andate a utilizzare bene questi piccoli divisori la cosa che mi ha sorpreso di questo organizer è che è comodo non solo in viaggio ma anche da schivania e potete veramente metterci qualsiasi cosa voi volete a seconda delle vostre esigenze se potete anche mettere qualcosa sopra l'altro a meno che è chiaro non si deve rovinare però comunque c'entra c'entra qualsiasi cosa e la cosa che mi è piaciuta è che quando voi lo andate a chiudere e lo utilizzate per esempio come ho fatto io in questi giorni anche da schivania lui può fungere da svuota tasca e perché? perché possiamo poggiare per esempio rientriamo a casa poggiamo le nostre cuffiette ci poggiamo anche le nostre chiavi di casa anzi forse meglio quest'altra perché sono più piccole e chiaramente più comode ci possiamo poggiare anche da questa parte le cuffiette come vi dicevo ma possiamo poggiarci anche da questa parte il telefono perché? perché questo in pratica all'interno di questo key organizer vi esce anche questo cavo di ricarica che è un cavo tutto marcato orbit key una cosa mi piaciuta è che all'interno troverete anche due di queste fascette con il velcro per andare a raggruppare meglio i vostri accessori per andare anche a chiudere qualche altro cavo che volete portare con voi in pratica voi potete attaccare il cavo qui dietro e mi è piaciuto perché guardate a parte il marchio orbit key ma guardate qui come hanno pensato all'attaccatelle quindi che non va a sporgere tanto ma vedete rimane ben aderente qui al case e lo potete attaccare invece da quest'altra parte a una battery cover o se volete anche a una presa da mura a seconda di quella che volete avete più a portata di mano perché questo funge anche da base wireless chiaramente è una base wireless con anche con anzi no ricarica rapida non ci avevo fatto caso perché nei giorni precedenti avevo fatto ricaricare anche l'iPhone e sull'iPhone non mi dava la ricarica rapida anzi adesso non me l'ha data vediamo un attimo me l'ha data solamente all'inizio no ah si no è ricarica rapida con i Samsung ricarica rapida perché mi sembra allora arrivi a 10 watt o 12 watt come ricarica rapida wireless forse perché l'avevo attaccato un'altra power bank adesso che ci sto pensando che non aveva la stessa potenza di questa questa qui quella della Yulox che vi riesce a fornire una maggiore potenza comunque come vi stavo dicendo è comodissimo perché voi arrivate a casa e potete svuotare le vostre tasche e potete appoggiarci quello che volete avete le chiavi della macchina appoggete anche le chiavi della macchina quindi risulta comodissimo e per lo studio è comodo è molto utile non apprezzo avere anche questa base di ricarica wireless che può fungere mi sembra anche con le cuffie dovrebbe funzionare si funziona anche se avete per esempio le Galaxy Buds o un qualche accessorio wireless chiaramente vi funge anche in wireless per tutti i vostri piccoli accessori quindi non solo per i telefoni quindi capite bene che si tratta di un K organizer anzi di un Nest organizer di un organizzatore da scrivania davvero eccezionale che poi voi nulla toglie lo potete comunque sempre dividere in questa maniera e qui avete la vostra base di ricarica appoggiata per esempio da una parte a un lato della scrivania invece di qui avete sempre dall'altra parte aperto ma con il vostro organizzatore e con tutti i vostri accessori quindi capite bene che si tratta di un accessorio davvero molto interessante ma soprattutto pratico, utile e molto molto versatile uno dei più versatili che ho mai provato fino ad oggi il costo di questo Nest organizer è un pochino più alto degli altri perché capite bene che non solo i materiali ma c'è anche una certa tecnologia all'interno e soprattutto poi mi è piaciuto anche per il design che è tutto completamente stondato e anche per i materiali utilizzati perché qui sopra abbiamo tutta finta pelle che è davvero piacevolissima al tatto e anche lo rende molto elegante, molto bello anche su una scrivania comunque il prezzo è di 109 euro quindi un pochino più alto rispetto a altri organizer ma non hanno secondo me, dato che li ho visti anche altri modelli simili non hanno questi tipi di funzioni, questo tipo di organizzazione interna personalizzabile ma soprattutto, cosa che lo ritengo un plus di questo modello, non hanno la base di ricarica wireless e comunque anche di questo vi lascio il link qui sotto allo store Orbit Key e se volete vi lascio anche il link ad Amazon anzi se volete, se c'è, perché non sempre si trovano questi prodotti su Amazon.it come invece quarto e ultimo accessorio di questo lotto della Orbit Key sapete qual è il quarto accessorio? è quello lì che avete avuto sotto gli occhi fin dall'inizio e c'è questo fantastico tappetino che adesso vi libero dagli accessori che ho messo qui sopra e vi faccio vedere meglio di che cosa si tratta e come è fatto prima di tutto vi allargo un po' la vista così lo potete vedere per intero e guardate qui quanto è bello si tratta di un tappetino della Orbit Key tutto in pelle pelle finta ma molto molto morbida è interessante per quale motivo? prima di tutto per come è fatto perché utilizza una pelle davvero di ottima qualità, di alta qualità mi piace tantissimo abbiamo due diverse colorazioni ce l'abbiamo così in nero e ce l'abbiamo anche in un bianco, bianco ghiaccio davvero molto bello è estremamente elegante ma ha diverse caratteristiche, diverse chicche questo tappetino che lo contraddistinguono da altri tappetini abbiamo due diverse dimensioni questa qui è quella grande mentre abbiamo anche quella media come dimensioni però prima che mi scordo abbiamo su questa grande 89,6 per 42,3 di altezza mentre per quello media abbiamo 68 in larghezza per 37 rotti 37,3 mi sembra e 68,6 se poi vogliamo essere precisi però come dicevo questo qui ha alcune chicche che mi sono piaciute particolarmente primo fra tutti guardate qui sotto lui ha in pratica un doppio tappeto vedete qui non è un singolo tappeto ma ha un doppio tappetino perché qui sotto ha il portadocumenti quindi utilissimo per poter mettere qui sotto dei documenti dei fogli in più da poter utilizzare al volo senza andare a occupare una parte della schifania soprattutto senza creare quel caos che delle volte si crea con i fogli sparsi a destra e a sinistra noi li nascondiamo qui sotto abbiamo vedete si alza tutto questo abbiamo tutto l'organizzatore qui sotto è chiaro che non potete mettere tanti fogli che altrimenti quando andate a scrivere o quando appoggiate il computer potreste avere qualche problema di bilanciamento però mi piace perché la parte questa qui sopra è quella più dura e quella più rigida quindi vi fa sentire anche meno le varie pieghette che si possono formare qui sotto alla parte nascosta e anche la differenza di varie altezze e di vari spessori qui sopra poi abbiamo anche un'altra caratteristica che è un porta penne ma abbiamo anche quest'altro piccolo accessorio che venne fornito in confezione guardate qui quanto è fatto bene col brand Orbit Key qui sotto abbiamo due calamite perché come funziona adesso ve lo faccio vedere subito in pratica noi se abbiamo i cavi per ricaricare per esempio il nostro laptop o una qualsiasi altra cosa questo funge da fermacavi noi lo possiamo far passare qui sotto e lo possiamo spostare dove vogliamo dove quindi meglio crediamo o dove è più comodo farlo stare ed è una cosa utilissima ragazzi questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo in questi giorni perché non apprezzo avere un fermacavi di questo genere integrato però con il nostro tappetino per la scrivania per esempio io lo spostavo spesso nella parte più esterna così non mi dava fastidio anche quando dovevo utilizzare il mouse e dovevo utilizzare chiaramente il mio laptop ecco per farvi avere un'idea questo qui della grandezza questo qui è il Macbook da 15 pollici con touch bar vedete quanto vi avanza è chiaro che se lo spostate forse più in qua quassù e questa qui potrebbe essere comoda mi è stata comoda anche per il sollevare leggermente perché si tratta di un centimetro forse il Mac ma delle volte può fare la differenza però se contate di poggiare tutto qui sopra non penso che entri qui poi una tastiera fisica esterna oltre a quella del computer se siete abituati a lavorare con una tastiera esterna e con un monitor dipende sempre che tipo di tastiera che tipo di modello sia compatta o meno però diciamo le dimensioni sono queste qui è molto comodo anche da utilizzare con il mouse anche senza il tappetino proprio del mouse perché lo trovo estremamente morbido non vi dovete preoccupare se quando lo acquistate questo tappetino perché c'è scritto anche nelle istruzioni che vi arriveranno nella confezione di vendita se noterete qualche piccola piegatura qualche onda non vi dovete preoccupare perché è chiaro che è un tappetino che sì è di ottima pelle ma è stato anche all'interno delle confezioni nei magazzini per tanti giorni per tanti mesi quindi all'inizio troverete qualche onda perché questo qui vi arriva arrotolato nella parte diciamo più lunga quindi troverete qualche ondina non vi preoccupate perché anche sulle istruzioni c'è scritto che dopo 72 ore ma a me già dopo 24-48 ore il giorno dopo già era completamente piatto liscio ed era davvero bellissimo ed era perfetto e devo dire che è un tappetino che ho apprezzato tantissimo ragazzi per come è fatto per come è studiato per queste piccole chicche per esempio per il fermacavi per il portadocumento il portafogli nascosto qui sotto e anche per la qualità dei materiali abbiamo dei materiali della Orbit Key davvero ottimi e di altissima qualità che io mi sento assolutamente di consigliarvi e di provarli perché sono dei prodotti eccezionali il costo comunque di questo tappetino della Orbit Key in differenti grandezze ce l'abbiamo da 84 euro che è quello lì più grande mentre scende a 64 euro la taglia media io comunque anche di questo vi posto sia il link su Amazon perché ho visto già oggi prima di iniziare questo video che è presente su Amazon ma solamente la taglia media e poi chiaramente vi lascio come sugli altri prodotti il link direttamente allo store dell'azienda detto questo ragazzi spero che vi siano piaciuti questi prodotti Orbit Key poi chiaramente se avete altri dubbi dettagli informazioni lo sapete io sono qui sempre a vostra disposizione mi potete contattare qui sul canale di YouTube o se volete mi potete sempre contattare di persona in maniera con le chat dirette direttamente su Instagram o su altri canali social in primis però su Instagram se vi è piaciuto questo video ragazzi come al saluto lasciate un bel like e iscrivetevi cosa più importante qui sul canale di YouTube se vi sono piaciuti questi video o vi piacciono questi video mi raccomando condivideteli con amici parenti con tutti coloro che pensate che possono essere interessati a questi tipi di recensioni e a questi tipi di accessori detto questo noi ci vediamo sicuramente alla prossima video recensione da Dimes Gadget per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora grazie a tutti